Cagnacci, ora vi spiego tutto quello che non vi hanno detto sui voucher. Sigla! Ebbene sì, un video che avevo annunciato già da tempo sul mio canale Telegram, a proposito seguitelo nel caso non fosse iscritti, lo trovate qui sotto in descrizione. E perché è importante spiegarvi come sta davvero la situazione voucher? Perché vi renderete conto che è soltanto un vile vigliacco attacco al presidente Renzi, senza alcun vero motivo istituzionale e politico. Anzi, un motivo politico c'è quello proprio di far fuori il non più presidente del Consiglio. Ma andiamo per ordine. I voucher non li ha introdotti il governo Renzi col Joe Bax. Oh, prima notiziona incredibile e impressionante. Il primo provvedimento che riguarda i voucher fu introdotto da Berlusconi nel 2003 ma serviva per, diciamo, far uscire dal nero le colf, le badanti, tutto questo tipo di lavoro. Più tardi, quando arrivò il governo Monti, si assistette alla prima liberalizzazione dei voucher con la riforma Fornero. Dopodiché è arrivato Letta che ha amplificato ancora di più la liberalizzazione dei voucher. E non è un caso che proprio dal governo Monti in poi l'uso dei voucher abbia spiccato totalmente il volo. Quando è arrivato il governo Renzi, non gli ha praticamente toccato i voucher, se non con due provvedimenti. Uno che ha portato il limite del pagamento per voucher alla singola persona da 5.000-7.000 euro, cosa che non ha sortito in molti effetti, visto che quasi nessuno è stato interessato a quella fascia. E soprattutto Renzi, il presidentissimo, con una legge che ancora purtroppo è entrata in vigore, visto che ormai hanno abolito o aboliranno i voucher, aveva cercato di limitarne l'abuso perché molti compravano il voucher, ad esempio nell'edilizia, mettevano a lavorare in nero gli operai, quando arrivava un controllo, ecco il voucher, allora Renzi ha detto no, questa cosa non si può fare più, facciamo che da oggi in poi, dal momento in cui io, presidentissimo, faccio la legge, il voucher va dichiarato prima quando inizia e va dichiarato prima quando finisce, in modo che non si possa più fare alcun abuso. Quindi il voucher non è un provvedimento del job ax, non c'entra assolutamente niente, se non per questo ampliamento della fascia da 5.000-7.000, ma l'estensione un pochino a tutti i lavori era cosa voluta al governo Monti. E vi dirò la mia sul voucher, aveva anche un profondo senso farlo, sia per capire un attimino dove si annidasse il nero, sia per tutelare un pochino di più i lavoratori, perché con il voucher all'interno dei 10 euro del loro valore c'è anche una piccola assicurazione che oltre che ha un piccolo pagamento della pensione, che è veramente irrisorio, ma l'assicurazione è molto importante perché se mi succede qualcosa sul lavoro e do il voucher, bene, sono tutelato. Ora, la CGL ha raccolto 3,3 milioni di firme per andare a fare un referendum sui voucher. Quando sono andato alla presentazione del libro di Raffaele Bonanni e Giuseppe Sabella, il libro ve lo lascerò qui sotto in descrizione, visto che un capitolo di quel libro parlava della commistione tra CGL e Sinistra PD, la critica è stata molto forte di Raffaele Bonanni perché ha detto beh, sui voucher ci dovrebbe essere una contrattazione tra le parti, non un referendum. Ed aveva perfettamente ragione. Vi spiego perché. Si sta utilizzando uno strumento democratico come referendum come arma politica contro un politico. E guardate bene, non è un caso che Roberto Speranza e Bersani abbiano cercato di cavalcare l'onda del referendum voucher perché poteva essere un'ennesima occasione per indebolire ancora di più quello che loro vedono come il nuovo Berlusconi. Sempre si parla del presidentissimo. Ora, quello che fa più ridere è che quando il voucher è stato liberalizzato totalmente ed è stato votato, indovinate chi votò a favore del voucher? Pierluigi Bersani. C'è ancora il suo nome e cognome tra gli atti della Camera. Tra parentesi, Bersani era anche il segretario del Partito Democratico che fece a votare a favore della riforma Fornero che conteneva le estensioni dei voucher. Come mai oggi questi si scoprono così riluttanti al voucher? Ve lo spiega il grandissimo Dell'Imellov che così cercherà di farvi capire anche perché il governo praticamente li ha ritirati. Ora, parlando con un amico, mi ha detto ecco tu che ti ho sostituito nel PD, hai visto? Hai eliminato i voucher, hai visto? Perché l'hanno detto i sindacati. Io gli ho spiegato a lui quello che sto per spiegare a voi. Semplicemente il governo ha voluto togliere un'arma di propaganda alla sinistra secessionista che si stava approfittando di questo referendum che è stato voluto dalla CGL braccio armato di Bersani e compagnia per appunto indebolire ancora di più pensi. Questa è una cosa che vi ho già detto. Allora immaginate che cosa dovrebbe fare un uomo attaccato in questo modo barbaro dove si usa uno strumento democratico per fare lotta politica? Rimuove i voucher che non era nemmeno un suo provvedimento e così nessuno potrà coinvolgere gli italiani in questa guerra vergognosa fatta attraverso il referendum. E ha un profondo senso secondo me ma lo sapete di chi è la colpa principale di questa marcia indietro su un provvedimento che io ritengo anche buono? Siete voi. Siete voi 60% degli italiani che hanno votato no al referendum costituzionale che vi siete fatti ingannare da coloro che volevano portarvi di nuovo al voto in un clima di incertezza. Scoprite solo adesso che chiunque vincerà non potrà governare da solo e dovrà fare alleanze? Prima non lo sapevate ma quando ve lo spiegavo io Massimo Esperto ve lo spiegavano altri mentivamo sapete cosa ci guadagno io? Zero se non da cittadino un'istituzione cioè quella Stato che funziona meglio e allora fatevi due domande su chi sono quelli della CGL fatemi due domande su chi sono Bersani e Speranza che prima votano a favore della liberazione dei voucher e quando la possono usare come arma politica invece si dimostrano i cavalieri serventi e protettori del lavoro ecco questa è la verità sui voucher e qualcuno potrà dirmi sì ma l'Istat considera occupati anche quelli che hanno un solo voucher bene è vero l'Istat considera occupati anche quelli che hanno preso anche un solo voucher però dovremmo andarci a guardare anche quanti sono i voucher totali tra gli occupati di tutto il mercato del lavoro i voucher rappresentano lo 0,23% il dato ve lo metto qui qui Istat ok vi compare sullo schermo quindi non è che è il grandissimo del livello ve lo dice è l'Istat stessa ora del voucher si può pensare bene o male si possono pensare tantissime cose ma rimane veramente stupido utilizzare un referendum per farlo abrogare piuttosto che far partire una contrattazione tra le parti come in uno stato democratico dovrebbe essere ma non mi meraviglio che l'acamusso abbia in odio Matteuccio mio perché voleva abolire il CNEL e dopo l'acamusso senza anche lo stipendiuccio del CNEL pian giucchiava quindi il nemico che gli vuole togliere i soldi a sta gente va abbattuto a tutti i costi voi potete decidere se essere complici di questo complotto di questo colpo di stato mascherato da democrazia oppure se diventare un pochino degli elettori un po' più svegli che analizzano le questioni che si informano sulla storia di uno strumento come quello del voucher e di non farvi manipolare purtroppo però presidentissimo consapevole che molti di voi sono pigri rinuncia alla lotta per il momento che ci sono altre lotte più importanti e dopo forse ci si tornerà ad occupare del lavoro dei bonus lavoro che sono questo no bonus buoni lavoro vabbè penso di aver spiegato in poche righe in pochi attimi come stanno le cose tenetevi pronti perché a breve esce il corso sulla libertà di espressione satira critica diffamazione ingiuria bla 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 e nei prossimi giorni si inizia a seguire anche si inizieranno a seguire anche le presidenziali francesi quindi attenzione a seguire molto bene il canale telegram che è il canale dove do dei piccoli easter egg dei piccoli bonus a quei tipi di video ok ve lo ricordo è qui sotto in descrizione ciao a tutti alla prossima ah già e seguite la pagina teramo comics di cui sono direttore artistico il massimo direttore artistico ah un'altra cosa il 24 giugno qui negli uffici wide open si terrà il primo workshop mio edibob di cui ancora non vi annunciamo né titolo né contenuti ma state attenti alle varie pagine facebook canali telegram bla 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 perché faremo un work show ciao ciao ciao